voglio dire la mia su jordan jeffrey jordan jeffrey io l'ho conosciuto tempo fa ovviamente l'ho conosciuto su internet nel senso che quando ero un po in hype io postavo video quindi ho avuto modo di schermare qualche messaggio con lui quando aveva il profilo verificato che poi gliel'hanno bannato cosa voglio dire beh voglio dire che è una persona che aveva bisogno di aiuto a livello psichiatrico psicologico e psichiatrico e anche neurologico secondo me un aiuto che forse in carcere non gli hanno dato che già una volta lui aveva minacciato risuscitarsi penso che la comunità carceriale prendono troppo la leggera queste cose prendono la leggera quando una persona non ce la può fare più e quindi ha bisogno di aiuto e magari in quel momento di uscire dal carcere andare in un reparto psichiatrico per cui mi dispiace per la morte di jordan jeffrey quello che lui ha fatto i reati che lui ha commesso quelli a caso stiamoli lasciamoli mettiamoli di lato perché qui stiamo parlando dell'aiuto che lui aveva di bisogno al momento all'atto della sua carcerazione un aiuto che a mio avviso è stato perso con superficialità voi lo sapete mi conoscete sapete che io sono un uomo di legge sotto ogni aspetto soprattutto lavorativamente parlando quindi sono sempre dalla parte della legalità appunto perché sono dalla parte della legalità a mio avviso quando un detenuto in carcere ha bisogno di aiuto a livello mentale non va preso sotto gamba e questo mi sento di dirlo da privato cittadino non da qualcuno che fa parte delle istituzioni o quant'altro assolutamente avendo avuto avendo canali youtube di informazione intrattenimento ripeto questi personaggi li conosco quasi tutti molti di loro appunto anche ho avuto modo di parlarci e con lui anche perciò ripeto andava aiutato grazie a tutti